Avrebbero assunto personale a fini clientelari, in barba all'obbligo di attingere da short list per mantenere ed incrementare il proprio bacino elettorale. Destinatari degli incarichi, soprattutto lametini, consiglieri comunali, assessori e persone a loro legate da rapporti di parentela. È una vera e propria bufera giudiziaria quella che si è avventata sulla Fondazione Calabresi nel mondo tra gli indagati a vario titolo per abuso d'ufficio, falsità ideologica e peculato. Si tratta dell'ex parlamentare Pino Galati, presidente della Fondazione Calabresi nel mondo, di Antonio Giuseppe Bianco, quale segretario, e di Mariangela Cairo, quale segretario della Fondazione I Sud del Mondo. Ingenti le somme di denaro sequestrate su disposizione della Procura di Catanzaro, quella maggiore e quella sequestrata all'ex deputato Pino Galati, pari a un milione di euro. Tra i nomi noti di coloro che avrebbero beneficiato delle assunzioni, l'ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Lamezia Terme durante l'amministrazione Mascaro Michelangelo Cardamone, i due membri dell'Aggiunta Speranza, Giussi Crimi e Francesco Cicione, il figlio dell'assessore dell'epoca al bilancio Aldo Ferrise, e poi ancora l'ex consigliere comunale Luigi Muraca. Sul fronte catanzarese invece il figlio del consigliere Tommaso Brutto e l'attuale consigliere Agazio Praticò. Oltre ad una gestione clientelare delle assunzioni, le indagini si sono soffermate sulla violazione dello statuto, che prevedeva la gratuità dell'incarico di presidente, e sui rapporti tra le due fondazioni, Calabresi nel mondo e Sud del mondo, accentrate entrambe nelle mani di Galati. Tiziana Bagnato per la CNews24.